Ritorna anche quest'anno l'estate a Pordenone, attesa Kermes di appuntamenti culturali e di intrattenimento organizzata dal comune di Pordenone. A presentare l'evento che si terrà dal 21 giugno al 10 settembre sono stati il sindaco Alessandro Ciriani, l'assessore alla cultura e grandi eventi Alberto Parigi e la madrina Maria Leitner, nota giornalista del Tg2, pordenonese d'origine. Sono oltre 300 gli appuntamenti in calendario che si terranno nelle piazze, nei parchi, tra le vie del centro e nei quartieri e che coinvolgeranno chiese, biblioteche, teatri, musei e vari locali della città, rendendo Pordenone un polo attrattivo e turistico che va ben oltre i confini della nostra regione. L'estate a Pordenone parliamo di circa 320 dal 21 giugno al 10 settembre, ma che però si unisce alla primavera a Pordenone e fa un tutt'uno, quindi dobbiamo contare circa 5-620 per una città che è viva e propone qualcosa tutto l'anno. Le novità sono tante, c'è tanta musica, però ci sono anche visite guidate alla Pordenone sconosciuta da riscoprire, inedita dall'area Ex Tomadini alla Chiesa della Santissima e poi i musei con le notti al museo e i musei aperti un giovedì sotto le stelle fino alle 23 e tanti eventi dal centro ai quartieri, dal Noncello fino alle case Ater di Via Pontinia e Largo Cervignano. Insomma un'estate che per quantità e qualità degli eventi pone Pordenone come punto di riferimento della scena culturale e artistica nazionale e che riesce anche a trarre persone per esempio dalla vicina Slovenia e dalla vicina Austria. Credo che sia questo quello che vogliono i pordenonesi, una città viva, non una città dove semplicemente si lavora e si va a dormire. Anche quest'anno un calendario ricchissimo di eventi assolutamente prestigiosi di grandi livello. Con quale obiettivo? Beh, prima di tutto offrire occasione di ritrovo, di relazione, di socialità ai cittadini di Pordenone, di qualsiasi età, eventi dedicati ai bambini, ai ragazzi, agli adulti. Il secondo è la vitalizzazione degli spazi urbani che abbiamo riqualificato pensando tanto al centro città quanto ai quartieri, persino sulle zone delle case popolari. Il terzo è valorizzare, mettere in mostra l'architettura, l'ossatura associativa straordinaria di questa città. Più di 70 associazioni che si mettono in gioco per garantire un cartellone di questo livello. È una cosa che tutti ci invidiano. La cosa importante non è dire abbiamo il Blues Festival, gesti insieme, perché magari questo ce l'ha anche la città, ma è la concentrazione di eventi e la quantità di edifici, di spazi, di musei, di luoghi culturali che vengono messi a disposizione per passare l'estate a Pordenone. Ultimo obiettivo, continuare su questo trend di portare turisti in città. Il 2021, dopo la pandemia, è stato un anno record negli ultimi 20-25 anni. Il 2022 ha polverizzato il record 2021. Nel 2023 dobbiamo fare ancora meglio. L'estate a Pordenone è organizzata dal Comune insieme a un centinaio di partner, tra associazioni artistiche e culturali, promoter, sostenitori e sponsor, categorie ed imprese. Un intero sistema territoriale capace di fare rete per promuovere la vivacità della nostra città. Il calendario degli eventi è in continuo aggiornamento ed è consultabile su www.comune.pordenone.it.